C'è un aspetto dei sequestri di beni ritenuti appartenenti a mafiosi che inquieta terribilmente. Ogni sequestro è una fotografia della società in cui il mafioso smascherato agisce. Ogni sequestro è una spia rossa che comincia a lampeggiare impazzita, perché ogni sequestro racconta alla gente onesta che la criminalità organizzata è ovunque. Prendete l'ultima operazione della Direzione Investigativa Antimafia di Catania. Ricorda che il settore dell'edilizia è incancrenito. Ricorda che, a loro insaputa, accendendo mutui che dissanguano, i cittadini onesti nutrono i parassiti mafiosi perché acquistano appartamenti realizzati da aziende a loro appartenenti. Il direttore della Dietnea, Alfonso D'Alfonso, ha chiesto e ottenuto il sequestro della Rapisarda Costruzioni SRL, della Idilia Costruzioni SRL, della Tecnocem SRL, tutte con la sede a Catania. Inoltre, sono stati colpiti dal decreto di sequestro 12 immobili, 21 rapporti bancari e numerose vetture utilizzate dalle aziende. Sono beni che valgono oltre 5 milioni di euro e che appartengono ad Antonino Stellario Strano e a Salvatore Rapisarda. Sono due mafiosi del campillera Cappello. Strano, condannato più volte per associazione mafiosa, è in carcere per la sentenza a 13 anni e 4 mesi di reclusione emessa in primo grado lo scorso anno dalla tribunale del capoluogo Ettenneo. Rapisarda ha già scontato tre anni di reclusione per associazione mafiosa. Le indagini della DIA hanno permesso di scoprire che i due criminali avevano deciso di essere compari non soltanto per l'appartenenza al campillera Cappello ma anche negli investimenti dei capitali ottenuti delinquendo. Così, eccoli puntare sul settore edile, creando le società, quelle che erano state intestate fittiziamente a loro congiunti e che apparivano beffardamente l'inde. Così, eccoli puntare.